Sono state 1994, serate mondiali Ma con Valeria Ho detto che quella sera lì Però siamo, io ti devo dire guarda che se Uomini no, perché quella sera della rivalità tra lì No, no, gli uomini Carrai mille luci, no? La donna collega si appena Fare delle cose fuori dagli schemi, no? Anche, forse per farsi notare in certe cose E anche dando un bacio in diretta Molto appassionato A chi? A chi? A te no A parte che sei diventata rossa Perché non vi siete sposati? Ma dai No, però eravamo molto innamorati Cambiamo allora totalmente l'argomento Siccome tu sei stato un po' l'invergimento Secondo me i cugini Bene, i vostri quattrini Allora, ricordatevi però che ci saranno tante richieste dopo questa trasmissione Quindi io vi invito tutti a telefonare subito Immediatamente Un argomento che io aspettavo da tanto tempo Wow Siccome non lo sono rimasti in due E noi dobbiamo equilibrare l'esternato Va tornato al suo vecchio amore Che è la console del DJ Quindi la musica è stata un po' l'esordio L'esordio da Dio Morche e Minghi Sì, questa è stata un po' l'esordio Non era una cazzolissima Bellissima Mi ne manca qualcosa L'ultima, 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 l'ultima Oro, l'oro Ricazzo Scusa Ricazzo Tutte Tu con Mi hai fatto dormire? Eh, poco Il mio libro ricorderai con un sms al 485 Con altri pazzi ci vediamo martedì prossimo Ciao Ciao